Nonostante il dolore per la perdita del genero, Pierre Francesco Forleo, Mara Venier ha condotto con grande professionalità, l'ultima puntata della stagione di Domenica Inn. Il programma, che compiva 30 anni, è stato molto apprezzato dal pubblico televisivo, e dai social network. Giancarlo De Andres ha così scritto. Una puntata particolare, ricca di emozioni e ricordi, condotta sul filo della commozione da Mara Venier. Lei, con grande professionalità e rispetto del pubblico, è andata in onda, malgrado il grave lutto che ha colpito la sua famiglia. La giornalista Francesca Fialdini ha mostrato la sua vicinanza alla Venier, e alla figlia Elisabetta Ferracini, mandando loro un abbraccio fortissimo durante la sua trasmissione. La Venier ha ringraziato prontamente la Fialdini, a nome suo e della figlia. La puntata si è conclusa con tanti ospiti in studio, e filmati d'epoca, che hanno ripercorso i trent'anni della trasmissione. La Venier ha ricevuto anche complimenti da volti noti, come Millie Carlucci, Amadeus, Fiorello, Renzo Arbore, e tanti altri. Ora la conduttrice può finalmente trascorrere le sue giornate in relax, per poi ripartire con una nuova stagione di Domenica In, da settembre. Che ne pensate? Lo seguite Domenica In? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.